In via Pia Opera Pastore da alcuni giorni si presenta una situazione alquanto pericolosa soprattutto per i veicoli che si trovano a dover parcheggiare. Ecco, vedete qui proprio al margine della carreggiata è sprofondata proprio la cunetta, vediamo qui una delle basole in marmo, qui l'asfalto e qui vedete si auspica che il comune possa intervenire a più presto e inserire nella lunga lista delle riparazioni anche questa. Grazie.